gli ultimi acquisti che ho fatto per il momento da temo che finalmente sono arrivati seppur con un giorno di ritardo rispetto al previsto ma non è ovviamente non è colpa loro ma del vettore italiano per così dire si ho la finestra aperta quindi potreste sentire sottofondo il l'aereo io ho preso questa canotta nera che dal video si forse rende meglio il video che dal vivo però è nera con la piuma e la maglia maniche corte ovviamente sono tagli asiatiche quindi per avere la vostra dovete aumentare di due tre taglie io in questo 4 in questo 4 in questo caso ho aumentato anche di quattro taglie perché comunque la canotta l'ho pagato sui 5 euro e questa un po di più ma in totale ho speso sui 25 e poi io sapendo cucire posso sempre stringermi le modificarmi le poi ho preso questo perché quello che avevo prima mi si è rotto c'è la cerniera qua la tasca e quella grande speravo fosse un po più alto diciamo però va bene comunque anche questo sui 5 euro mi sembra infine ho preso una coppia perché venivano a coppia c'erano anche bianchi io li ho scelti neri per i lì ferma libri con la scritta book però sono contentissima ciao